Musica Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Il governo ha lavoro su un provvedimento ponte che dovrebbe cercare di, come dire, completare quel lasso di tempo che passerà tra il 7 di gennaio quando scadrà il decreto di Natale e il 15 di gennaio invece quando è in scadenza l'ultimo DPCM. Un provvedimento che dovrebbe appunto mettere mano soprattutto alla questione che riguarda la divisione in fasce e come l'Italia appunto affronterà questo periodo, soprattutto appunto per quanto riguarda la gestione anche dei contagi che purtroppo sono in risalita, una curva che ancora non rassicura, soprattutto in vista del fatto che la campagna vaccinale deve necessariamente entrare nel vivo anche se al momento sappiamo che ci sono diversi ritardi. Poi si parla naturalmente anche delle questioni legate alla politica sui giornali di oggi, del confronto nell'ambito della maggioranza e di un'ipotesi rimpasto che è sul tavolo di Giuseppe Conte. Allora partiamo subito dal Corriere della Sera, eccolo qui. Vedete il titolo a centro pagina, Italia a colori la nuova stretta scontro sulla riapertura delle scuole. Nel weekend torneremo in arancione, per la verità sono varie le ipotesi allo studio in queste ultime ore, quindi vedremo poi appunto quello che verrà stabilito. Decisi altri divieti, dal 15 arriva anche la fascia bianca. Vaccinazioni oggi la ripresa, regioni alla prova. In taglio alto, eccolo qui, le questioni che riguardano la politica. L'ipotesi, vi dicevo, rimpasto sul tavolo di Conte e Renzi, servono dei cambiamenti. Luigi Di Maio, la sua posizione sarebbe folle toccare il Premier. E poi c'è un'intervista con il leader di Italia Viva oggi sul Corriere della Sera, che dice che le elezioni tutti sanno che non ci saranno. Per quanto riguarda le questioni legate ai vaccini, c'è il caso Gallera con la Lega che lo scarica. Lui appunto aveva detto che le vaccinazioni non sono partite perché i medici sono in ferie e la Lega appunto ha preso le distanze, ha detto che le sue dichiarazioni non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Andiamo a vedere anche l'apertura della Repubblica. Eccola qui, Conte bis a fine corsa, il Premier cede su Recovery Plan e delega sui servizi, ma tratta un rimpasto con i leader della coalizione. Renzi incassa e continua ad agitare lo spettro della rottura. Il Quirinale non crede in altre maggioranze. Catalf, oggi c'è un'intervista alla Ministra sulla Repubblica. Nuovo stop ai licenziamenti, annuncia per le aziende in difficoltà. Centro pagina, eccolo qui, il calendario dei colori sul tavolo del governo, le varie ipotesi, riapre la scuola e l'Italia, si fa Arlecchino, la Lega che scarica Gallera sui vaccini. E poi ancora di spalla le questioni che riguardano gli Stati Uniti, le minacce di Trump per ribaltare il voto in Georgia. La stampa, eccola qui, l'apertura dedicata al virus che corre al weekend blindato. zona gialla solo nei giorni feriali, ma sei regioni vanno verso la raccione. Ricciardi, oggi c'è un'intervista al consulente del Ministro della Salute, che dice il rischio terza ondata. Ancora l'azzolina a scuola il 7 gennaio dà dal 50%. Il governo ormai è determinato a riaprire le scuole, anche se ci sono però diverse opinioni contrastanti tra i governatori e soprattutto i presi dei sindacati. E poi ancora Medici in ferie in Lombardia ed è bufera su Gallera. Ancora Conte che tratta con Renzi dal fisco ai ristori con la crisi. Saltano oltre 40 miliardi. A centropagina il sogno di Greta che compie 18 anni. Regaliamo un sorriso a questo pianeta. E poi la battaglia di Kamala con i neri della Georgia. Un audio di Trump che minaccia il governatore per quanto riguarda appunto la questione dei voti. Il messaggero, eccolo qui. Scuola a riapertura in bilico. L'alarme del Comitato Tecnico Scientifico in alcune zone è pericoloso. E le regioni che vanno in ordine sparso. Lazio che rinvia all'11. C'è un'intervista al Ministro Boccia oggi sul messaggero. Il virus sta aumentando. Il ritorno in aula è legato ai contagi. Ancora il nuovo recovery. Investimenti e 10 miliardi per la capitale. Modifiche MEF. La quota dei fondi per il Sud sale al 40%. E poi ancora questioni che riguardano le cartelle fiscali. Arriva un decreto. Il blocco durerà per altri due mesi. Tregua prorogata per 50 milioni di atti. Vediamo anche l'apertura del Sole 24 ore. Il quotidiano economico. Questa mattina eccolo qui. Dedicata a casa, lavoro e figli. L'Italia del 2021 riparte da 130 novità e sconti fiscali. E si fa il punto della situazione su questi aspetti. E poi precompilata IVA per 2,3 milioni di persone. Ancora gli incentivi all'assunzione di giovani e donne. Con perimetro ristretto. Vediamo anche l'apertura del fatto quotidiano. Eccolo qui. Oggi c'è un'intervista alla ministra dell'istruzione Azzolina. Che dice in aula il 7 studenti già troppo sacrificati. Basta, dice, accanirsi sulla scuola per i contagi. Dice la ministra Azzolina. Cercate altrove. Anche perché appunto in questa intervista sottolinea. La scuola è stata chiusa finora. Per quanto riguarda le superiori, i contagi comunque aumentano. Ancora le questioni che riguardano il governo. Renzi dà tre giorni a Conte. Puntieri PD per far ragionare Italia Viva. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio. Preseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo a domani. Eccolo qui. Conte in aula. Rimpasto trattativa. Il governo è in un vicolo cieco. Il titolo principale. Vediamo anche l'apertura del giornale. Caos totale. Fine chiusura. Mai governo. Ore contate. Italia Arancione con weekend blindati fino al 15. Per l'esecutivo si avvicina la resa dei conti. Oggi sul giornale c'è una lettera. Firma di Silvio Berlusconi. Vaccino aiuti in ritardo. Siamo pronti a collaborare. E leggiamo una parte di questa lettera. Il richiamo che c'è in prima pagina. Dice come tutto il mondo. Noi stiamo patendo le conseguenze della pandemia. Non soltanto in termini di vite umane. Di sofferenze diffuse. Ma anche di una paralisi economica che continua. E della quale il prezzo diventa. Ogni giorno più chiaro. Ormai chiaro che tutto a tutti. Che il vaccino è l'unica strada per uscire da questo dramma. Una strada che suscita anche diffidenze e paure. Che sono comprensibili. Ma che possiamo considerare ragionevolmente sicure. Alla luce del parere unanime della comunità scientifica. E dunque dice ogni sforzo dovrebbe concentrarsi nell'immediato sulla campagna vaccinale. E subito dopo sulla strada per consentire al Paese di ripartire. Vediamo anche l'apertura del tempo. Eccolo qui. Conte ne farà di tutti i colori. Governo allo sbando. Titola il tempo. Poi ancora vi volevo segnalare il grande flop del reddito di cittadinanza. L'ufficio parlamentare di bilancio avverte il governo. Soldi a tanti lavoratori. In nero. Apertura della verità. Eccola qui. Conte blocca tutto. Tranne la sua crisi dalla zona rossa alla zona Cesarini. Dice appunto la verità. E che parla anche però di 4 milioni di italiani senza cibola. Col diretto il numero di chi ha chiesto aiuto fra Natale e Capodanno. E' raddoppiato rispetto all'anno scorso tra i nuovi poveri. Chi ha perso il lavoro e molti commercianti. E ancora appunto vediamo anche l'apertura del mattino. Finite le feste. Restano i divieti. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Che ci racconta bene con questo schema. Appunto quello che ci potrebbe aspettare nei prossimi giorni. Limite di vieti anche dopo l'epifania. Ma dal 15 l'ipotesi di una zona bianca. Vediamo in particolare di cosa si tratta. Visto che appunto questa è la novità. Il Ministro della Cultura Franceschini ha proposto la creazione di una quarta fascia di rischio. Una zona bianca nella quale entrerebbero le regioni. Con gli indicatori migliori e dove si potrebbero, passiamo all'altra pagina, eccola qui, riaprire i luoghi della cultura. Come musei, teatri e sale da concerto e cinema. Barri e ristoranti lavorerebbero senza limiti di orario. E anche piscine e palestre tornerebbero a funzionare a pieno ritmo. Sempre però mantenendo le regole di base di contenimento come mascherine, obbligatorie di stanza e divieto di assembramento. E dunque appunto potrebbe esserci questa novità. E poi ancora però con i nuovi parametri introdotti dal CDS per i divieti più severi. Basta un RT sopra a 1,25. Quindi verrà rivista appunto la soglia dell'RT. Vi segnalo dal Corriere della Sera questa intervista alla sottosegretaria Sandra Zampa che dice Indice RT è positivi ancora in risalita. Dobbiamo resistere per altri due o tre mesi. E vediamo appunto un passaggio di questa intervista in cui la Zampa dice Qui si discute intanto l'epidemia avanza e resta pericolosa. Non è il momento di perdersi in chiacchiere. L'andamento dell'RT è in risalita così come il numero dei positivi. Non si può affrontare una campagna vaccinale con gli ospedali sotto pressione. Corre il rischio che gli operatori sanitari siano occupati nell'assistenza ai malati Covid. Non siamo arrivati alla saturazione dei reparti. Tranne che per alcune realtà abbiamo una boccata di ossigeno. Dice sfruttiamola. È una fase cruciale. Si può evitare che l'Italia piombi in una situazione drammatica come la Gran Bretagna. E altre nazioni vicine ci aspettano mesi pericolosi da trascorrere al chiuso. Del virus trova terreno fertile per contagiare. Se teniamo fino a primavera dice ne usciamo. E dunque appunto questa è l'intervista alla sottosegretaria Sandra Zampa che trovate sul Corriere della Sera. Da cui andiamo subito a vedere le questioni che riguardano la politica. maggioranza e i pontieri al lavoro un rimpasto per evitare la crisi sul tavolo. Anche un nuovo esecutivo dell'avvocato che potrebbe chiedere un faccia a faccia al capo di Italia Viva. E a proposito del capo di Italia Viva oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera che vediamo subito. Il titolo Aspettiamo Conte al Senato le elezioni tutti sanno dice in questa intervista che non si andrà a votare. Vediamo un attimo una parte di questa intervista in cui appunto dice le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto sono persone serie, stanno al governo perché hanno delle idee e non per vanagloria. Se queste idee non piacciono noi non siamo come gli altri, le poltrone le lasciamo. Capisco che in tempi di populismo ciò suoni stravagante ma si può fare politica anche senza incarichi istituzionali. Oggi dice tocca al Premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, messe, cantieri da sbloccare, scuola e cultura è degno di nota oppure no. Per quanto riguarda il Partito Democratico appunto gli viene chiesto in questa sua battaglia se è sentito appoggiato o no dal PD e da Luigi Di Maio. Dice mi sono sentito appoggiato da chi ama questo paese, conosco bene il PD, è una grande comunità fatta di persone molto diverse. Su tanti punti c'è appunto dice Sintonia. E poi gli viene chiesto lei ha capito perché Conte non vuole dare la delega ai servizi segreti e lui dice no. E francamente non ne voglio più parlare, c'è un limite istituzionale che è invalicabile. Berlusconi, Prodi, D'Alema, Monte hanno scelto una persona a cui affidare i servizi segreti. Conte no, eppure servirebbe qualcuno in grado di spiegare che con le istituzioni si deve essere prudenti. E poi gli viene chiesto lei ha paura delle elezioni e lui dice io non ho paura di niente, meno che mai della democrazia. E dice intanto perché le elezioni non fanno paura a chi è abituato a misurarsi con il consenso come i nostri colleghi che vengono da una bella gavetta. E poi dice il secondo motivo è ancora più chiaro, tutti sanno che non ci saranno le elezioni. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera, eccolo qui questo articolo, invece che da il punto di vista di Di Maio che dice bisogna trovare una squadra, ma sarebbe folle toccare il Premier, appunto dice Conte va difeso, metterlo in discussione è folle. L'ex capo politico allo Stato attuale non vede un piano che tocchi il vertice di Palazzo Chigi che è visto come una garanzia dal Movimento e dai principali alleati di governo. L'orizzonte di un rimpasso che porti ad un Conte Terra rimane sul tavolo, i nodi da sciogliere all'interno della maggioranza sono tanti e tali da richiedere una verifica approfondita. Tuttavia Di Maio è ancora fiducioso di trovare una soluzione che scongiuri la crisi. Andiamo sulla Repubblica, eccolo qui, da cui appunto invece volevo segnalarvi questa intervista che troviamo alla Ministra Catalfo che dice continuerà lo stop ai licenziamenti per le aziende in crisi, a giugno la riforma delle pensioni per superare quota 100, subito un miliardo in più per rafforzare il reddito di cittadinanza. In questa intervista dice non è il momento di far saltare il governo, piuttosto è il momento di rimboccarsi le maniche e di correre. A proposito del governo vi segnalo un'intervista, eccola qui, alla Ministra della Famiglia Bonetti che dice al governo manca una visione, io ho le valigie pronte. E dice in particolare in un momento tanto drammatico di pandemia e di crisi la politica è il dovere della verità e della trasparenza per trovare mediazioni nell'interesse generale. In tutti i passaggi occorre chiarezza, confronto e condivisione. Per me non è concepibile chiudere gli occhi davanti a provvedimenti da approvare senza averli prima conosciuti e condivisi come è invece accaduto per il recovery plan. Andiamo sulla stampa da cui invece vi volevo segnalare questa intervista a Walter Ricciardi. Le misure sono insufficienti, così arriverà la terza ondata, intravedo un'evoluzione negativa entro due settimane, casi in aumento, riapertura delle scuole da rimandare, dice Ricciardi in questa intervista a metà gennaio. E visto che stiamo parlando della questione che riguarda le scuole, vi segnalo questa intervista alla Ministra dell'Istruzione, Azzolina. Eccola qui sul Fatto Quotidiano che dice la scuola è già stata fin troppo sacrificata, il 7 si torna in classe. Le superiori chiusi, chiuse da mesi, dice in questa intervista, se i contagi salgono non è qui la causa. E dunque il governo che tira dritto per la sua strada e comunque le scuole verranno riaperte. Dal messaggero vi segnalo un'altra intervista al Ministro Boccia, appunto che anche lui dice il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi e poi dice scuola, nessuna posizione ideologica come in Inghilterra si può decidere poche ore prima e ancora sui vaccini si deve accelerare e farli anche di notte. Il Lazio è un esempio. Ed è tutto per la rassegna stampa e intanto ci ha raggiunto il studio Paolo Sottocorona. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Questa è la situazione di questa mattina, zone con più nuvole, il sud, specie sul versante tirrenico, l'alto adriatico, il mar Ligure o tirreno settentrionale, ci sono già delle piogge. Vediamo però nel complessivo delle prime 12 ore, quindi della prima parte della giornata di oggi, vedete nord-ovest ma essenzialmente Liguria e Piemonte con fenomeni che complessivamente potrebbero essere almeno moderati e poi medio tirreno, basso tirreno, qui parliamo essenzialmente del Lazio e della Calabria e poi sulle zone di nord-est qualche cosa c'è. Vediamo nel pomeriggio, c'è una evoluzione. In realtà si attenuano le piogge sul medio-basso versante tirrenico, rimangono non troppo intense quelle sul nord-est, c'è una intensificazione, una zona in cui ci potrebbero essere fenomeni più intensi sul Piemonte occidentale, ma siamo quasi in zona alpina in realtà, qualche pioggia anche in Sardegna. Fra la mattina e il pomeriggio sembra un miglioramento, ma già state vedendo la giornata di domani in cui sicuramente non migliora, perché possiamo escludere la fascia più settentrionale, quella alpina, specie centro-occidentale, con fenomeni non intensi, ma poi il resto del nord, buona parte del centro, e il sud, almeno sul versante tirrenico, compaiono le zone in giallo o addirittura in rosso che sono associate a elevate, elevatissime quantità di pioggia, quindi anche qualche temporale sicuramente. Insomma, instabilità forte e ancora una volta ancora in Sardegna. Mercoledì un po' meglio, sicuramente si attenuano molto i fenomeni al nord, su parte del centro, rimangono le zone, vedete, fra Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, con qualche fenomeno intenso, ma insomma nel complesso una certa attenuazione c'è. Chiudo con i flash consueti, le temperature minime di questa mattina abbastanza basse, ma tutto sommato non lontane dalle medie, neanche al nord, e lo stato dei mari. Ancora c'è una zona, vedete, questa è intorno alla Sardegna, sul Tirreno, con un moto ondoso abbastanza forte, da molto mosso ad agitato, ma in tendenza, quindi nelle prossime ore, questo moto ondoso si dovrebbe attenuare un poco. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuela Garulli, da più tardi.